Ciao a tutti ragazzi, sono Capoplasa13, visto che l'altro tutorial di come vedere film gratuiti avete scritto che era troppo difficile, tranquilli, ho un altro metodo. Andate su tantifilm.it, aprite il primo link, cercate il film che volete vedere, facciamo che ne so, uno thriller. Non cliccate il primo, la prima finestra che vi esce questa qui, non la cliccate, andate giù, vedete questa pagina sotto, una, due, cliccate, tornate indietro, aspettiamo che si apre, quando si apre girate. Aspettiamo che si carica il nostro film, ovviamente raga, come tutti i siti, i film non ve li fanno vedere gratis, quindi dovete aspettare un attimo il caricamento. E adesso perché ho una connessione schifosa? Sentite? Vedete? Andiamo avanti. Vedete? Vedi visto? Funziona. Io ho una connessione schifosa, ve lo ripeto. Però questo link funziona. Visto che... La scorsa volta, il mio altro tutorial era troppo difficile. Intanto ragazzi, entriamo un attimo su Brawl Stars. Vi volevo aggiornare di una cosa. Che sarebbe in questo video? Vi chiedo due mi piace. Tra poco, come vedete, arriverò ai 12.000. Faremo un box opening insieme. Che ci apriamo tutte queste casse più la mega cassa. Per favore, arriviamo almeno a due mi piace. E basta, vi chiedo solo questo. Visualizzazioni, dai, ce la possiamo fare. Dieci visualizzazioni e basta. E poi apriamo questo. E poi, se volete altri metodi, magari per scaricare film, vedere film, tutto quello che volete, basta che lo scrivete nei commenti, io la farò. Ciao ragazzi, Capoplazio Sredici vi saluta. Ciao!